Buonasera, buonasera a tutti, se siamo pronti diamo lettura del bollettino odierno. Innanzitutto voglio ringraziare i giornalisti qui presenti, gli operatori perché come vedete nella nostra sala abbiamo adottato anche noi quelle che sono le norme di precauzione che sono state emanate ieri pomeriggio, ieri sera dal Governo quindi abbiamo anche nella sede del Dipartimento della Protezione Civile adottato queste norme e vi ringraziamo per la collaborazione che ci avete prestato e che prestate. Per quanto riguarda il bilancio odierno voglio partire sempre con il dato positivo dei guariti, dimessi e guariti. Oggi abbiamo 138 persone dimesse e guarite in più quindi da 276 andiamo a 414 le persone dimesse e guarite. Abbiamo anche 41 persone decedute, le 41 persone decedute sono 25 in Lombardia, 8 in Emilia Romagna, 4 in Veneto, 2 in Liguria, 2 in Piemonte. La fascia di età, visto che qualche domanda era poi stata fatta e potrebbe essere fatta dai 66 anni ai 94 anni. Comunque il dato è, si tratta di persone fragili per la maggior parte con diverse patologie, questo per soltanto un'attività di trasparente comunicazione. Il dato dei positivi attualmente è di 3.296 in tutte le regioni con un incremento di 590. Il dato più importante è l'incremento in Lombardia di 280 unità, siamo arrivati a 1.777 persone pari al 54 per cento del totale. In Emilia Romagna abbiamo 142 persone in più, con un totale di 658 persone pari al 20 per cento del totale. In Veneto 35 persone in più, con un totale di 380 persone affette da coronavirus, l'11 per cento del totale. Il dato complessivo vede ricoverati con sintomi 1.790 persone, in isolamento domiciliare 1.155 persone, in terapia intensiva 351 persone pari al 10 per cento della popolazione che è complessivamente affetta dal coronavirus. Non ci sono stati problemi, criticità nei nostri ospedali, anche quelli della Lombardia che sono particolarmente oberati di lavoro ed è in atto quel piano di potenziamento delle strutture di terapie intensive e subintensive. È anche in atto un'attività di potenziamento delle attrezzature, come sapete, di acquisizioni che stiamo operando. Per quanto riguarda le percentuali voglio dare ultimi due elementi, il totale dei guariti è il 10,73 per cento rispetto al totale delle persone che è stata complessivamente colpita da coronavirus e i deceduti rappresentano il 3,84 per cento. Altro dato che vi voglio dare è quello relativo alle forze in campo, le forze in campo che noi abbiamo registrato. Mancano per esempio i colleghi del Ministero della Salute che sono qui presenti e che operano anche dal Ministero ma il dato che noi abbiamo oggi è 2.269 uomini impiegati suddivisi tra Dipartimento, come vi ho detto ieri, Forze Armate e Forze di Polizia e volontari e volontarie del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Voglio ringraziare questi ultimi giorni perché, come sapete, sono una risorsa preziosa per le nostre attività, per l'assistenza non solo nelle zone rosse ma anche negli altri territori. Abbiamo incrementato il numero delle tende che sono state destinate al triage, oggi siamo a complessivamente 361 tende installate all'esterno degli ospedali per il triage. Proseguono le attività dal punto di vista di acquisizione di dispositivi di protezione individuale e reperimento da parte del Dipartimento e delle Regioni, quindi stiamo proseguendo con l'attività relativa agli indispensabili strumenti per consentire agli operatori del Servizio Sanitario, agli operatori di protezione civile e ai cittadini di potersi relazionare in condizioni di sicurezza con i necessari dispositivi di protezione individuale. Ringrazio sempre il Presidente Silvio Brusaferro, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità che è accanto a me e che è pronto anche a rispondere alle vostre domande sotto il profilo tecnico. Oggi è stata fatta una conferenza stampa nella sede del Dipartimento, sono state fornite tutta una serie di precisazioni, di chiarimenti dal punto di vista tecnico scientifico. Qualora ce ne fossero altri siamo qui e siamo pronti a rispondere alle vostre domande. Grazie. Giuliano Rosciarelli, Alanius. Volevo soltanto un chiarimento. C'è stato un deceduto all'ospedale San Giovanni, mi chiedevo se è confermato il legame col coronavirus e il perché non si trovasse allo Spallanzani. Allora ho avuto anche io notizie di un deceduto al San Giovanni, l'ho letto dalle notizie di agenzia, io non ho avuto notizie. Come sapete i dati delle regioni a noi arrivano e arrivano per le 16, quindi il dato, questa informazione, l'ho letta come notizia di agenzia e adesso vi faremo poi sapere tutti quanti i dettagli. Credo che neanche il professor Brusaferra abbia su questo elementi da poter fornire. Prego. Forse posso aggiungere un elemento, mi avete chiesto nei giorni scorsi un chiarimento circa il decesso che è avvenuto a Parma della persona che sembrava apparentemente asintomatica o non portatore di altre morbidità. L'approfondimento che abbiamo fatto anche grazie ai colleghi dell'Emilia Romagna e dell'ospedale di Parma ha indicato invece la persona come portatrice verosimilmente di due o tre comorbosità. Quindi l'evento si riconduce purtroppo, il decesso si riconduce comunque a un quadro di decessi fondamentalmente, che coinvolgono fondamentalmente persone con polipatologie. L'altra verosimile risposta alla sua domanda, perché non si trovava, un'ipotesi però ripeto senza conoscere nulla del caso, è che sia stato diagnosticato una volta ricoverato e quindi non sia arrivato con il sospetto di, ma sia stato diagnosticato durante. Però premesso che non conosciamo nulla del caso. Una domanda per Brusaferro, visto che la preoccupazione nel Paese è, oltre ovviamente che per i deceduti, anche per il numero delle persone in terapia intensiva che possono mettere in crisi il sistema. Volevo chiedere, avete dei dati su quanto mediamente un paziente che va in terapia intensiva rimane in terapia intensiva? Cioè c'è speranza che chi è andato adesso in terapia intensiva poi in ogni caso la liberi per qualcun altro? Guarendo, speriamo. Allora, i primi dati penso cominceremo ad averli la prossima settimana, perché non dimenticate che siamo in fase di chiusura delle prime due settimane. Abbiamo dati di letteratura. Il primo dato è che la grande maggioranza, a parte i deceduti in questo caso, di fatto supera la fase della terapia intensiva e poi si avvia un percorso di guarigione che poi si completa con la negativizzazione alla presenza del virus. L'altro passaggio è che dipende questo molto anche dall'età media, nel senso che le persone più anziane tendono a avere, sappiamo dai dati di letteratura, ma anche dall'esperienza clinica, tendono a avere una permanenza in terapia intensiva un po' più lunga e noi abbiamo una popolazione abbastanza anziana, il che da un certo punto di vista è un grande vantaggio, perché siamo il paese, diciamo, che vive tra i paesi al mondo con la vita media più lunga. Negli altri contesti si parla circa di due settimane, questa è un po' l'idea delle persone che rimangono e però, ripeto, stamattina facevamo una riflessione sul fatto che l'Italia in qualche modo come paese G7 diciamo, è forse il primo caso pilota di una infezione così diffusa e quindi la definizione dei quadri clinici, la definizione anche in realtà analoghe come strutture sanitarie, la stiamo verificando e costruendo, quindi in realtà man mano che acquisiamo i dati questo rappresenterà anche un patrimonio prezioso per gli altri paesi, oltre che per tutti i nostri sanitari e anche una garanzia per i nostri pazienti. Luca Laviola dell'Ansa, buonasera, un'altra notizia che è circolata oggi è quella di un chirurgo di medicina d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma che sarebbe rientrato in servizio e poi si sarebbe messo in auto isolamento a casa. A me non risulta, non so neanche credo al professor Brusaferro. Non siamo in grado né di smentire né di confermare. Buonasera Alessandro Mantovani del Fatto Quotidiano. Ha detto che sono in corso acquisizioni di apparecchiature per le terapie intensive. Ci può dire un po' meglio in che misura e in quali tempi si prevede la consegna di queste attrezzature, respiratori in particolare? E poi ha detto che non ci sono criticità negli ospedali neppure in Lombardia. Siamo certi che la carenza di posti in Lombardia non abbia in una qualche misura rapporto con il tasso di letalità piuttosto elevato. Ha detto lei 3,8% oggi. Grazie. Sì, allora parto dalla prima cosa. È un'attività di potenziamento che, come sapete, è partita anche da un lavoro congiunto delle regioni con il Ministero della Salute. E proprio in queste ore il nostro soggetto autotore, noi abbiamo chiesto supporto anche a Consip S.p.A. e quindi voglio ringraziare la Consip, farà una call questa sera e ho chiesto di avere una call molto breve, quindi già da domani dovremo avere indicazioni di quello che riusciremo a reperire sul mercato e che è utile per ampliare la capacità dei nostri centri di terapia intensiva e sub-intensiva. Le regioni hanno anche potenziato, stiamo elaborando una tabella, oggi non l'ho con me, ma vi daremo anche contezza di questi dati, una tabella nella quale stiamo monitorando il numero dei posti che si sono ampliati. Io dico queste cose a ragion veduta sulla base di una circostanza. Se ne è parlato già da ieri, l'altro ieri, di questo sistema della CROSS, la centrale remota di soccorso sanitario. Quando in una regione si esaurisce la disponibilità di posti in rianimazione, c'è bisogno di rianimazione, non è che si, come dire, lascia morire le persone, ci si attiva, è un'emergenza di protezione civile, esiste il referente sanitario regionale che attiva immediatamente la centrale remota di soccorso sanitario, ce ne abbiamo una a Pistoia e l'altra a Torino e la centrale trova posti letto di rianimazione nei nosocomi delle regioni limitrofe. Non è stata ancora mai attivata, voglio ricordare che la CROSS l'abbiamo attivata in occasione del terremoto del centro Italia, è stata attivata anche in occasione del crollo del Ponte Morandi ma poi non ha operato perché quando si vede una maxi emergenza dal punto di vista sanitario noi mettiamo in piedi queste strutture straordinarie che come sistema le abbiamo costruite dopo anni di esperienza e emergenze che si sono susseguite sul nostro territorio nazionale e per questa ragione che dico che al di là delle difficoltà non c'è stato una richiesta di posti in terapia intensiva in altre regioni. Sono Ilenia Petracalvina di Raiuno. Noi ogni giorno diamo qui i numeri della positività al contagio. Facendo un lavoro quasi da maestrina diciamo a matematica stiamo notando che c'è un aumento ogni giorno di almeno 500, dalle 400 alle 600 persone in più. Stamattina Brusaferro parlava di una curva epidemica che in qualche maniera deve essere contenuta. Come dobbiamo leggere questi messaggi cioè questi questi numeri che danno comunque delle unità in progressivo importanti cioè se aumentiamo di 500, 600 al giorno persone contagiate vuol dire che come come possiamo valutarli questi numeri? Ecco questa è la domanda. Ma è chiaro noi siamo partiti da una fase epidemica che era focalizzata in due aree ristrette una in Veneto e una in Lombardia. Quella Veneta per come sta evolvendo ha avuto una diffusione un po' più rallentata in realtà ha coinvolto numericamente un numero minore di casi. Quella Lombarda invece ha coinvolto anche delle zone vicine, delle città vicine, sia un po' espansa. E' chiaro che questo lavoro di contenimento si basa sul fatto di andare progressivamente a contattare. Non dimentichiamo però che i casi, molti dei casi, molti casi sono presenti anche nella zona rossa che sta ancora crescendo, che sta ancora sviluppando nuove positività e che i contatti delle persone della zona rossa poi nell'arco dei 14 giorni possono ovviamente manifestare questo tipo di infezione. E' altrettanto vero che la mobilità dei cittadini per le normali attività nel nostro Paese ha portato in molte altre regioni ad avere piccoli focolai che nascono per lo più da contatti nelle zone Lombarde o Venete. Tra virgolette. Questi contatti a loro volta possono aver generato qualcosa quindi in realtà è difficile oggi immaginare, questi sono gli effetti dei contatti che abbiamo avuto nell'arco in questo tempo. Quindi è chiaro il passaggio importante è evitare, l'abbiamo detto anche stamattina, il ruolo di ognuno di noi perché le misure di contenimento sono importanti, sono necessarie. Il nostro governo le sta adottando però è altrettanto vero che è importante come noi ci comportiamo e quindi l'enfasi particolare che poniamo all'attenzione di tutti noi è la consapevolezza che un nostro comportamento determina la possibilità nostra di contare l'infezione ma anche nel caso fossimo positivi inconsapevolmente di trasmetterla ad Arti. Quindi questo è veramente un appello importante che cerchiamo di ribadire in tutte le sedi, in tutti i modi, l'importanza che ognuno non si senta immune da questa possibilità di infezione ma se si senta coinvolto nell'adottare delle misure che riducono la circolazione. Solo questo ci può aiutare a rallentare questa curva come lei diceva però è evidente che anche questo tipo di messaggi passa progressivamente e magari in alcune aree dei cittadini in alcune aree dove magari i casi sono piuttosto limitati possono pensare di poter rilassarsi un po' ma in realtà il problema è adottare queste misure come standard perché ci muoviamo tutti poi sistematicamente e quindi l'attenzione verso queste misure è veramente molto importante. Salve Managò agenzia agi e oggi c'è stato un momento un po' di confusione in un comune del Gargano San Marco in Lamis dove il presidente della regione ha in qualche modo invocato la chiusura di una zona dove si era verificato un decesso poi scoperto con tampone dopo il funerale a cui hanno partecipato circa 300 persone il sindaco del comune non vuole la zona rossa pensate come protezione civile dati i poteri legati all'emergenza di intervenire in qualche modo per dare voi una linea rispetto alla situazione che si è verificata? Qua intervengo io perché avevo avuto modo di parlare con il prefetto si è trattato di una situazione che è sotto controllo e dove le persone che hanno avuto contatto con la persona che era deceduta per la quale poi si era tenuto il funerale sono state messe in isolamento domiciliare quindi a titolo prudenziale non ci sono problemi e non rileviamo almeno per quello che è stato segnalato a noi dalla regione Puglia esigenze di fare valutazioni circa chiusure o altre attività quindi è questa cosa all'attenzione sapete che esiste un livello organizzativo nel nostro paese che è quello del livello comunale provinciale attraverso i centri di coordinamento soccorso e regionale io sono stato interessato dal prefetto mi è stata data informazione e ovviamente la situazione è sotto controllo grazie ultimissima Petraroli Tg2 volevo capire ma le superfici il virus rimane per qualche ora qualche giorno abbiamo delle novità su questo e nel caso bisogna sanificare i territori le zone le aree di contagio perché non era chiaro forse me lo sono perso io grazie allora novità su questo recentissime non ci sono siamo alle informazioni peraltro già molto articolate di cui disponiamo sappiamo che il virus è inattivato da disinfettanti molto comuni a base di cloro piuttosto che di alcol questo in condizioni sperimentali e abbiamo chiarito nel passato che in alcune condizioni sperimentali può sopravvivere a lungo in condizioni diciamo di vita reale una buona igiene degli spazi una buona pulizia standard norm normale come quella che facciamo che dovremmo fare insomma quotidianamente nei nostri ambienti un po' più ovviamente spinta nei contesti sanitari dove evidentemente ci sono fattori di rischio diversi beh quella è sufficiente a garantire una buona pulizia una buona garanzia di non sopravvivenza del virus nell'ambiente il tema è proprio quello della come dire attenzione a un'igiene sistematica puntuale nella nostra vita quotidiana Mi preoccupavo degli spazi comuni immagino autobus metropolitane luoghi di lavoro soprattutto quello è Sì questo potrebbe essere in teoria però c'è un problema del motivo per cui il lavaggio delle mani è sempre stato ed è il punto essenziale nei luoghi comuni dove noi tocchiamo maniglie manopole o porte l'unica garanzia è lavarci le mani perché non ci sarà mai nessuna condizione che possa permettere un meccanismo sistematico forse a casa nostra se siamo iper attenti però da un punto di vista operativo la garanzia migliore è il lavaggio delle mani quindi lavarci le mani spesso sistematicamente con attenzione è la miglior garanzia per fare in modo che le nostre mani che sono poi il veicolo attraverso il quale poi toccandoci infatti se vedete nella nell'infografica alle spalle da una parte c'è scritto laviamoci le mani dall'altra non mettiamo le mani verso in bocca negli occhi perché sono le mucose del nostro cavo orale o anche la nostra congiuntiva sono delle vie possibili di ingresso e quindi non toccarci con le mani e lavarci sistematicamente le mani sono le due misure che evitano anche un contatto caso che un contatto eventualmente casuale possa trasformarsi in una via d'ingresso per l'infezione grazie